che se la gente proprio mi salta addosso, vado sulla barca e mi allontano. Credo che qui si disegni una situazione molto positiva. Ci sono molti casi in cui magari voi siete chiamati, e di solito quando si pensa alle forze dell'ordine si pensa a questi casi, siete chiamati a intervenire perché c'è qualcosa di male, c'è qualche aspetto di violenza, e bisogna che la forza pubblica accogli. Io invece mi immagino che soprattutto per voi, della politica, della città, ci sia a volte, e io spero che dovrebbe essere la maggioranza del vostro lavoro, un'esuberanza di vita, ci sono tante manifestazioni, tante cose belle, a cui la gente partecipa con grande intensità, in grande numero, per cui c'è bisogno, ma proprio in termini costruttivi, positivi. Che bello se davvero fosse così, io non so le statistiche cosa dicono, quanti interventi fate per bloccare azioni negative, e quanti invece ne fate proprio per disciplinare, coordinare l'esuberanza di una città.